20.000 metri quadrati di aree espositive, 27 il numero degli anni, oltre 200 gli espositori, questi i numeri della 27esima Fiera dell'Agricoltura, quali le novità per quest'anno? Abbiamo molti più espositori degli anni passati, fortunatamente la fiera riscuote sempre molto successo, purtroppo abbiamo dovuto lasciare fuori qualcuno che non è riuscito per una questione di tempistica, soprattutto perché l'area è comunque un'area, nonostante molto ampia, però limitata. Abbiamo l'inaugurazione con i bambini della San Giuseppe Savini, San Giorgio, il coro, che canteranno l'inno d'Italia, e poi, novità, ci sarà un convegno sulla mosca olearia, che purtroppo quest'anno è un tema di triste attualità, organizzato dall'Istituto di Agraria, e poi avremo domenica pomeriggio, per la prima volta quest'anno abbiamo un momento ricreativo con il concerto di Tecchile in Montepulciano, che canteranno all'interno dell'area dello stadio, proprio, sul prato, questo dalla domenica pomeriggio. Al via il 27, con la mattinata classica, dove si svolgerà la cerimonia di inaugurazione per la tre giorni. Sì, il 27, insomma, inizia questa ventisettesima avventura della fiera dell'agricoltura, insomma, devo dire, in continuo crescendo, con tutto, insomma, considerando anche il momento sicuramente difficile, però, come dire, è una manifestazione che davvero richiama tanti espositori, ma soprattutto tantissime, tantissime persone ogni anno, e questo ci fa piacere. Io, tra l'altro, quest'anno siamo riusciti anche, grazie a Baltur, ad avere il bus navetta gratuito, per cui, insomma, un servizio in più, considerando anche il traffico, che negli anni passati è sempre stato molto importante, anzi, colgo l'occasione per fare i complimenti al presidente Ballone, per questo suo nuovo incarico di presidente regionale di Confindustria, un incarico meritato e sono certo che darà, saprà dare un nuovo impulso in questo ruolo. Però, davvero, un momento importante è la fiera dell'agricoltura a Teramo. Credo che ce ne sono, in Italia ce ne sono tantissime, anche in Abruzzo c'è quella di Lanciano, che è una gran bella fiera, però devo dire che la nostra, piano piano, sta assumendo un ruolo importante nel mondo dell'agricoltura. Grazie a tutti.